a volte siamo allegri altre volte siamo tristi a volte siamo soddisfatti dei risultati ottenuti altre volte invece siamo arrabbiati e delusi spesso siamo gentili e disponibili ma a volte siamo stanchi ognuno di noi ha la sua storia e la sua professionalità c'è chi è più giovane e chi ha più anni di lavoro alle spalle c'è chi ama lavorare squadra e che invece preferisce ragionare da solo ognuno di noi è importante ed è un piccolo pezzo di qualcosa di più grande insieme siamo replica sistemi buone feste a tutti